È chiaro che ci troviamo di fronte a una vicenda umana delicatissima e per la quale ci va dato il massimo di comprensione e di condivisione. Detto questo, quando si passa dal caso personale e individuale al fatto di dover scrivere una legge e quindi di mettere nero su bianco, e la legge voglio ricordare a tutti che ha un valore universale, quindi prescinde dai singoli fatti e dai singoli eventi, ci vuole una delicatezza ed una curatezza del tutto particolare. Ma lei non riconosce da uomo, da medico, da credente il diritto a una persona che soffre, che vede la sua vita cambiare totalmente, a dire scelgo di dire basta? No, io riconosco il diritto di qualsiasi persona e soprattutto di una persona gravemente sofferente come questa, di essere accompagnato, accudito e seguito al massimo possibile. Non penso che faccia parte della disponibilità dell'uomo il cosiddetto diritto di morire. Non esiste un diritto di morire e lo Stato dovrebbe avere le idee anche molto chiare su questo passaggio. Il diritto è il diritto alla vita, che fonda poi tutti gli altri diritti e tutti gli altri valori. Il diritto di morire non è a carico della singola persona. Io credo che anche dal punto di vista, dal punto di vista del credente il problema direi che non si pone neanche, ma anche dal punto di vista laico lo Stato deve riconoscere che esiste un limite, deve fare delle scelte e il limite va riconosciuto, altrimenti diceva un famoso psichiatra morto negli anni Ottanta, Jacques Lacan, quando noi neghiamo il limite andiamo a finire che neaufraghiamo nella follia, nella follia che può essere la follia anche come dire di una società. Nel momento stesso… Però io lo uso con la prima persona perché ci siamo messi tutti in gioco a partire dall'Avvocato Buongiorno, da tutti in questo studio. Io non voglio decidere sulla sua vita, lei vuole decidere sulla mia? Beh, lo Stato deve tutelare il bene comune. Il bene comune vuol dire sostanzialmente che deve porre dei paletti, ci devono essere dei limiti, io non sono totalmente gestore libero della mia libertà, io non posso rendermi schiavo suo, anche se lei mi è simpatico e anche se lei non mi retribuisce per questo, perché lo Stato dice che la libertà è un valore massimo che deve essere tutelato e quindi non è disponibile alla persona.